Il mio amore per la musica nasce grazie a mio padre che è un bassista e ha sempre suonato in casa tutti i generi musicali, dal blues al regga, alla musica tradizionale africana e mi ha infuso un forte amore per la musica. Diplosun non nasce nel senso che è diciamo il zunto delle mie riflessioni, dei miei ricordi d'infanzia, dei generi che che più hanno influenzato il mio percorso artistico e che ho voluto reinterpretare secondo la mia visione del mondo e della musica. Il processo creativo dietro le musiche di Mirrors è stato un processo in divenire perché ho composto musica guardando il corpo dei danzatori e reinterpretando diciamo tutte quelle sonorità elettroniche che hanno rivoluzionato il mondo della musica underground negli ultimi anni come il GOM sudafricano. Se penso a Italia e Africa penso alla mia famiglia e al bellissimo connubio di colori, culture, tradizioni che mi hanno reso la persona che sono oggi.